Una giornata di luglio, martedì 20 luglio, quindi piena estate, ci si avvia al Clu delle Vacanze, eppure c'è una splendida realtà associativa, siamo Taranto, si amo, con il giochetto delle lettere, che è qui a Tramontone per realizzare un'azione di bonifica, per pulire l'aria, una iniziativa che si realizza e che supporta l'attività istituzionale di Chima Ambiente AMIU. Le motivazioni per cui oggi potevate starvene tranquillamente a casa, eppure in questo modo voi dimostrate fattivamente, concretamente, di amare Taranto. Non a caso la nostra associazione si chiama appunto Siamo Taranto, proprio perché noi siamo spinti a promuovere questi... Diciamo, lei è Francesca Boccardi, la Presidente, mi ha detto alt, non dire la Presidente, è vero, formalmente sono la Presidente, ma qui non ci sono soldati e generali, siamo tutti Presidenti. Esatto, sì, perché infatti è un gruppo meraviglioso di persone che amano veramente la nostra città e quindi noi attraverso azioni concrete ci prendiamo cura del nostro territorio, cercando di diffondere esempi virtuosi, perché insomma con le nostre raccolte rifiuti volontarie e cerchiamo di sensibilizzare le persone ad avere maggiore rispetto per la nostra terra. Quindi noi portiamo avanti queste iniziative da più di un anno, in questo luogo in particolare ci siamo tornati più volte, perché è il nostro luogo del cuore, noi lo chiamiamo così, e purtroppo ogni volta ci troviamo sempre di fronte a qualche rifiuto che non appartiene sicuramente. Devo dire che grazie al vostro intervento la quantità enorme è ridotta davvero ai minimi termini. Decisamente sì, anche perché insomma tutte le persone, i frittori di questo luogo che ci vedono spesso intervenire evidentemente hanno capito che cosa significa prendersi cura e rispettare la terra, per cui per noi è un grande successo. Ed è bello che voi vi affianchiate alle istituzioni. Diciamo che le istituzioni in questo caso Chimambiente ci supporta nella fornitura del materiale, ovvero di sacchi e guanti. Voi ci mettete l'olio di gomito. Esatto, noi ci mettiamo l'olio di gomito, il cuore soprattutto, e poi naturalmente vengono a rimuovere anche il materiale che noi raccogliamo durante le nostre... Ovviamente non è che potete portarvelo a casa o smaltirlo. L'unica cosa che noi facciamo, che è anche una cosa importante, è fare una raccolta differenziata, differenziando il vetro che noi, o meglio tutti i volontari, poi portano alle varie isole ecologiche. Quindi ecco il vetro noi lo differenziamo e lo portiamo via noi. Tutto il resto viene raccolto da Chimambiente, che ringraziamo per il supporto.